Salve sono Alessandro Bartoli della Bosch King Bike di Empoli e siamo a presentarvi anche alcune novità mountain bike pedalata assistita oggetti veramente notevoli che abbiamo presentato alla fiera di Padova quest'anno. Qui alla mia sinistra abbiamo la Bosch 29 con il motore ossigeno un motore esterno molto potente che ha una buona coppia è indicato perché fa salite piuttosto importante questo kit che è un kit abbastanza economico volta circa 1.500 euro è applicabile su qualsiasi bici ma la chicca proprio quella che tutti ci chiedono è il motore invisibile vivax che è montato invece sulla Bosch 29 in carbonio questa è una bicicletta un po più importante di quella lì telaio in carbonio su misura e praticamente il motore qui non si vede niente è qui all'interno del telaio e praticamente la batteria può essere o qui in borsina o qui in borraccia in questo caso per questione di praticità abbiamo preferito quella in borsina vi faccio vedere l'attivazione di questo motore anche questo qui è quello invisibile e abbastanza silenzioso andiamo se è parte ecco praticamente anche questo motore qui ha circa 200 watt di potenza e vi dà un discreto aiuto sia a salita che in pianura oltre alla totale invisibilità è un sistema nuovo di pedalare che ormai tutte le grosse aziende siamo stati anche in Germania ormai stanno andando tutti in questa direzione perché praticamente l'amatore può farsi una bella girata avendo la richiesta la jurno che vuole può pedalare in tranquillità e si allena ovviamente molto meglio questo tipo di biciclette comunque se voi volete venire a vederle potete venire a Empoli alla Bosch in Barchi di Empoli appunto dove lo voglio ve le faremo vedere e in alcuni casi anche provare venite a trovarci alla Bosch in Barchi di Empoli un ciao da Alessandro della Bosch ciao a presto